Grazie a tutti. No, non è un caso che ci crea allarmismo, non c'è da allarmarsi, non siamo in una situazione di epidemia, è uno dei casi che rientra nella normale statistica ed epidemiologia dei casi di meningite nella regione Puglia. Ovviamente immaginiamo quanto allarmismo abbia chiarato questa notizia tra i genitori dei compagni di classe di questo ragazzo che frequenta l'Istituto Marconi, tanto che questa mattina si è tenuto l'incontro con i genitori ed un delegato dell'AS, proprio per spiegare la cosiddetta profilassi. Sì, assolutamente sì. La profilassi è stata, devo dire che c'è stata grandissima collaborazione da parte dei compagni e dei contatti stretti, quindi compagni di classe del ragazzo che aveva contratto la meningite. C'è stata subito grande collaborazione perché noi siamo intervenuti appena c'è stato notificato il caso dall'ospedaletto. Siamo intervenuti con l'inchiesta epidemiologica, si è messa a disposizione anche la famiglia del ragazzo. Abbiamo creato una chat che era il mezzo più moderno e più veloce perché i contatti che avevamo erano contatti di ragazzi, non dei genitori e tramite loro siamo arrivati ai genitori. Loro stessi si sono messi a nostra disposizione, abbiamo creato una rete di comunicazione, abbiamo contattato poi anche la dirigente scolastica e quindi siamo rientrati nei tempi corretti e giusti per le giuste procedure di profilassi. La profilassi prevede una comprensa di ciproxi in 500 assunta soltanto una volta, questo scongiura il rischio di eventuale trasmissione della malattia? Allora la trasmissione della malattia da un soggetto ammalato è bassissima, il rischio di malattia ammalarsi da un soggetto che ha contratto la meningite è solo del 2% e gli studi scientifici ci indicano che questo 2% di solito è rappresentato da un soggetto convivente. Quindi noi sappiamo che il batterio della meningite dal 2 al 30% della popolazione alberga all'interno del naso e all'interno della bocca, quindi ci sono molti portatori. I portatori attraverso la respirazione, attraverso il contatto stretto possono trasmettere la meningite ad altre persone, per cui il rischio di contagio da una persona ammalata è molto basso. Si è parlato appunto in queste ore di profilassi di tutti coloro che abbiano avuto un contatto stretto con il ragazzo, che cosa si intende per contatto stretto? Allora per contatto stretto intendiamo tutti coloro, i conviventi in primis, ovvero tutte le persone familiari che convivono a stretto contatto nella stessa casa per un lungo, diciamo praticamente quasi tutta la giornata, tranne il periodo scolar, il momento scolastico. Tutti i contatti stretti solo coloro che stanno, che sono stati sette giorni prima della manifestazione dei sintomi, a contatto con il ragazzo in ambiente circoscritto per un lungo periodo di tempo. E qui intendiamo esclusivamente, per quanto riguarda il contesto scolastico, soltanto i compagni di classe e non tutti gli studenti della scuola. Per questo sono stati messi in profilassi tutte le persone che lo stesso ragazzo ci ha segnalato, che sono stati a stretto contatto, sia scolastico che non, quindi parenti, familiari, amici, con cui aveva condiviso anche le serate precedenti. Anche perché il batterio, in questo caso, visto che pare si tratti di meningite di tipo B, dovrebbe avere una sopravvivenza molto molto breve, no? La sopravvivenza è molto breve e è molto suscettibile sia alle temperature che all'essiccamento. E per questo ne abbiamo dato anche indicazioni alla scuola che non era utile la chiusura scolastica. Abbiamo già mandato, c'era l'open day, però abbiamo mandato in sopralluogo un nostro medico, proprio per dare le indicazioni corrette che sono state anche poi inviate formalmente attraverso un comunicato alla stessa scuola. Per cui non è necessario la chiusura della scuola, basta la pulizia degli ambienti e quindi, non so, il banco, quindi tutti gli, diciamo solo e esclusivamente di quelle zone che possono essere contaminate e quindi in cui il soggetto è stato a strettissimo contatto. Beh, tra l'altro mi dicevate con detergenti comuni, insomma disinfettanti comuni come l'arichina. Assolutamente sì, a base di arichina, ma nulla di più, non serve nulla. Cambia qualcosa appunto con l'individuazione del tipo di meningite che ha colpito il 17enne? Cambia qualcosa nel profilassio, comunque diciamo nella gestione di questa emergenza? No, assolutamente, non cambia nulla, tutti coloro che sono stati messi in profilassi, la procedura prevede che tutti i contatti stretti siano messi in profilassi nel più breve tempo possibile. Quando si sospette, questo lo si vede sia subito dal prelievo del liquor, ma si vede da altri segni, anche comunicatici poi dall'ospedaletto, si mette in profilassi a prescindere da quale sia il ceppo. Quindi se è meningococcica si mette in profilassi, una meningite da pneumococco non prevede la stessa procedura di profilassi. Allora intanto, dottoressa Scricciolini, abbiamo registrato alcune critiche, insomma ci sono arrivati dei messaggi da parte di coloro che hanno assistito il ragazzo sull'ambulanza del 118, ricordiamo appunto, così come vi abbiamo raccontato già sabato sera, che il ragazzo è stato trasportato a bordo di un'ambulanza del 118 al Giovanni XXIII. Come siete intervenuti in questo caso, insomma, risolto questo vuoto? Allora, c'è da promettere che noi abbiamo giocato d'anticipo, nel senso che il Dipartimento di Prevenzione ha predisposto già da un po' di tempo un protocollo che riunisce e recepisce tutte quelle che sono le disposizioni ministeriali regionali relative alle procedure operative che si adottano quando c'è un caso di meningite, dal primo operatore che lo prende in consegna fino all'ultimo. E queste procedure sono state diffuse a tutti gli ospedali della provincia, sono state diffuse in primis ai nostri operatori sanitari, alle cliniche private, medici, medicina generale, pediatri e anche al servizio di emergenza del 118. Quindi si sente assolutamente di escludere che qualche contatto stretto possa essere entrato in contatto, scusate il gioco di parole, con il 17enne che non sia stato sottoposto a profilassi? Sono stati tutti assolutamente sottoposti a profilassi nei tempi previsti dal protocollo. Quante persone lo sappiamo? Numericamente abbiamo l'elenco, ma sono praticamente tutti i compagni di classe, sono stati sottoposti i compagni con cui aveva condiviso i pomeriggi, gli operatori sanitari che sono stati a contatto con il caso. Vogliamo ricordare quali sono i sintomi? In questo caso presentava febbre volito e febbre molto alta. In alcuni casi la sintomatologia all'inizio è una sintomatologia che si può confondere con quella dell'influenza, ma assolutamente non deve creare allarmismo questo. La sintomatologia di solito è febbre, all'inizio ci può essere vomito, c'è uno dei segni che qualunque operatore può riconoscere, è il segno della rigida nucale. E anche in questo caso c'è stato, così come ci hanno comunicato i medici che l'hanno preso in consegna all'ospedaletto. Questi sono i primi segni. Dicevamo meningite di tipo B, che è quella sostanzialmente di cui tanto si parla, tra l'altro introdotta tra i livelli essenziali di assistenza qualche anno fa, tant'è che i bambini nati dal 2014 in poi vengono vaccinati gratuitamente. Adesso l'estensione della gratuità del vaccino anche nati dal 2003 in poi, questo significa che è un tipo di meningite che colpisce soprattutto i bambini nei primi mesi di vita. Ecco, ci sono però, c'è sempre l'eccezione che conferma la regola? Beh, le meningite in generale colpiscono di solito la fascia d'età tra 0 e 5 anni. Tra 0 e 1 anno considerate che l'incidenza è tra 4 e su 100.000 casi. La meningite non è una malattia, è una malattia rara, perché se consideriamo che su una popolazione di 61 milioni di persone, che è la popolazione italiana, lo scorso anno abbiamo avuto 148 casi, questo ci dà l'idea di quella che è l'incidenza della meningite. In Puglia abbiamo avuto 7 casi l'anno scorso. Parliamo di meningite e di tutti i ceppi della meningite. Quindi, diciamo, è una patologia, è una malattia rara. Ci fa paura perché è una malattia che ha un decorso rapidissimo, per cui a volte anche l'inserimento della terapia è difficile perché i tempi sono ristretti, a volte il soggetto non risponde. Fa paura perché ha delle conseguenze a volte infauste e a volte anche lascia delle situazioni invalidanti, importanti. Ricordiamo però che forse questi allarmismi più o meno giustificati stanno creando comunque una larga copertura vaccinale. Questo veramente avrà un'efficacia positiva sull'incidenza della malattia? Io mi augurerei che le coperture vaccinali fossero alte per tutte le vaccinazioni, perché la meningite è una malattia rara, è una malattia grave ed è giustissimo vaccinare. La regione Puglia, come lei diceva, ha allargato la gratuità per il vaccino del meningococco B dal 2003 al 2013, oltre alle corti già previste. Però io vorrei sollecitare tutti quanti a fare attenzione su tutte le malattie infettive. Un morbillo, noi oggi abbiamo ancora il morbillo che circola in alcune fasce d'età scoperte. Adesso abbiamo casi mortali di ipertosse, abbiamo di nuovo casi di malattie che fino ad ora non vedevamo più. Se abbassiamo il tasso di copertura di tutte le altre vaccinazioni, noi rischiamo che tutti i casi che adesso non vediamo di morbillo e più che altro di complicanze di morbillo riaffioreranno. Per cui ben venga alzare i tassi di copertura, ma non solo per la meningite, bensì anche per malattie che si diffondono anche più facilmente della meningite. Dottoressa Squicerini, per chiudere, visto che lei si occupa proprio della profilassi in caso di malattie infettive, abbiamo parlato di incidenza di meningite, quali sono invece le altre malattie infettive che hanno un'incidenza maggiore di cui meno si parla ma che possono essere più preoccupanti per la nostra regione? Allora, adesso sicuramente l'incidenza di malattie le vediamo molto meno rispetto a prima, perché per il morbillo adesso abbiamo protetto tutti i bambini, abbiamo alcune sacche ancora non coperte che però stiamo coprendo e di qui vediamo un'incidenza adesso bassa. Noi dobbiamo mirare a coprire tutte le fasce a rischio, come per esempio stiamo scendendo anche sulle vaccinazioni come l'esavalente, come la vaccinazione per la pertosse, la difterite. Questi sono preoccupanti, questi dati possono essere preoccupanti, perché viene meno quella che noi definiamo l'immunità di gregge, l'herd immunity, cioè più vacciniamo più proteggiamo noi stessi e proteggiamo tutti coloro che non possono effettuare la vaccinazione per condizioni patologiche già preesistenti. Allora, siamo in chiusura di questo spazio, possiamo chiudere con nessun allarmismo? È tutto sotto controllo? Assolutamente nessun allarmismo, invito tutti quanti, come dicevo prima, ad effettuare e a proteggere i nostri figli, lo dico come medico, lo dico come mamma di due bambini, invito tutti quanti a proteggere i nostri figli con l'unico strumento efficace di prevenzione e per tutte le malattie infettive per cui abbiamo a disposizione i vaccini. Stop, grazie alla dottoressa Rosetta Spicciarini del Dipartimento Prevenzione ASA, grazie per essere stata con noi e grazie a voi come sempre per averci seguito, appuntamento più tardi, arrivederci.